Entra nel vivo il campionato di eccellenza pugliese in programma la 14esima giornata che si apre alle 18 di oggi con la sfida tra Bisceglie e Real City, un turno che proseguirà poi con la gara di domattina tra Borgo Rosso e Canosa e si completerà nel pomeriggio di domani con le altre sfide in programma alle 14.30 e tra le gare pomeridiane di domani spicca il derby tra l'Ortanova e il Foggia in Cedit, scontro salvezza che mette di fronte la terzultima e la penultima forza del raggruppamento pugliese. Compito agevole per il Manfredonia che riceve il fanalino di Coda Trani, impegno casalingo anche per il San Marco in Lamis che attende il Polimnia e per il San Severo che ospiterà il Ricciardelli il Mola. A completare il programma la gara tra Corato e Unione Calcio Bisceglie. Grazie. 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 Grazie.